Vogliamo soltanto che ci considerino, nel senso che fino adesso hanno considerato soprattutto gli sport quelli agonistici, quelli che portavano economicamente dei riscontri. In tutti questi anni non ci hanno forse mai considerato in questa pandemia qua, meno che mai, perché non sono arrivate i ristori, le leggi erano poco chiare. Forse pensano che ci saremo anche dopo che questa pandemia sarà finita, che hanno sbagliato almeno a chiudere, non so, potevano evitare di chiuderla se non volevano dà oggi dei ristori. Speriamo che con queste cose che stiamo facendo, cioè che qualcuno sui piani alti, chiamiamoli così, riesca a interfacciarsi con le persone competenti sul campo, che non tirino più fuori grosse cavolate di non aperture di piscine, quando tutti sappiamo che lo sport fa bene, nelle piscine c'è il cloro, che cercano di farsi anche andare d'accordo con loro stesse, dirci delle cose che siano concrete. Pare che adesso dovrebbero arrivare dei finanziamenti anche per lo sport, sappiate che al momento non abbiamo ricevuto assolutamente niente.